Tatani 3, prossimo incontro, Rigo, Asia, Valenziano, Gaia. Tatani 1, finale del terzo e quinto posto, adegoria più 100 kg. Sciabola, Daniele, Dami Ciceluca, anche da questo ruolo di Sacchi, Ciancio, Madnessini. Il prossimo incontro da Rami 1, sempre finale del terzo e quinto posto, si rimangono Cervozzi, Davide, Becchetti, Nicola. Vincere Corzale, tra dieci minuti il Tomaselli Corzale. Vincere Corpi, Junior.